Allo spaccio alimentare in via degli Etruschi 2 strada statale 106 a Merito Portosalvo, frutta e verdura 99 centesimi e tantissimi altri prodotti. Alcuni esempi, speciale suino tutto a 3,90 euro al chilo, formaggio Piemonte Valgrana 69 centesimi letto, formaggio ed hammer 69 centesimi letto, gelato cucciolone agida 480 grammi 2,99 euro, succhi di frutta yoga vari gusti 1 litro 1,19 euro, coca, fanta e sprite in lattina 55 centesimi, birra viurer 33x3 1,29 euro, yogurt magro parmalat grammi 125x8 1,89 euro, caffè lavazza qualità rossa grammi 250x2 4,59 euro, detersivo lavatrice sole 40 lavaggi 2,79 euro, spaccio alimentare via degli Etruschi 2 strada statale 106 a Merito Portosalvo.